però è un'altra terra di lavoro, provincia di Frosinone, Valle di Comino quindi? ex agnone una volta e la vostra specialità qual è? è la Zambogna noi giriamo tutto a Napoli sempre la persona da Zambogna ma venite il 28 novembre? si si, la novella dell'Immacolata ma è monomeno veramente vado a Caivano a Caivano? io con l'altro là va a Maddaloni bravo e poi? beh, siamo fatti ora annunziata in tutti i paesi allora tutti quanti adesso li sentiamo qui dal vivo prego grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.